benvenuto nel bazar atomico un podcast per imparare di tutto da chi ne sa più di tutti mistici scienziati imprenditori eroici maghi filosofi esploratori e artisti uomini e donne straordinarie selezionate per la potenza e la follia dei loro progetti indipendentemente dal numero di followers che hanno io sono davide francesco sada sono l'autore della bestseller la felicità fa i soldi e dal 2010 dirigo l'accademia di formazione finanziaria money surfers la mia vita è sempre sembrata un bazar ho provato di tutto sono stato un wannabe rock star un giornalista un regista e persino un rampante marketing manager e nonostante mi sia sempre impegnato a fondo i risultati che ottenevo erano sempre scarsissimi caduto in depressione iniziai a divorare libri di self help un sacco di fuffa ma poi un giorno in uno di questi lessi una frase di jim ron frase che cambiò la mia vita per sempre non siamo altro che la media delle cinque persone che frequentiamo più spesso fu come un'esplosione atomica nella mia vita non accadeva nulla perché per un mix di superbia e paura di uscire dalla mia comfort zone sociale tendevo a fare tutto da solo o con le persone che conoscevo già quando mi sono imposto di incontrare e collaborare con uomini e donne straordinarie che non conoscevo ancora anche la mia vita è diventata altrettanto straordinaria per questo ho creato il bazar atomico un pretesto per poter continuare a conoscere persone sempre più ispiranti e grazie alla tecnologia condividere i loro insegnamenti con il resto del mondo buone deflagrazioni ciao benvenuto quest'oggi c'è ospite un artista mister save the wall è un artista di origine comasche che utilizza la tecnica dello stencil per realizzare opere pittoriche su supporti semplici o di largo consumo come cartone legno metallo o materiali di riciclo la sua arte è un'arte di disturbo che lo vedremo suggerisce idee messaggi ironici provocatori e dissagranti nei confronti di tematiche sociali politiche e di attualità come recita il suo pseudonimo mister save the wall vuol dire mister che salva il muro salva i muri non dipinge sui muri ma li rispetta e li salva fissando le sue opere temporaneamente con quattro pezzi di nastro di adesivo agli angoli i suoi primi lavori attaccati ai muri pubblici di como città nella quale abito io in questo momento sono stati staccati dai passanti e portati a casa e incorniciati destando l'interesse del sistema dell'arte eccetera eccetera tra l'altro mister save the wall è stato anche citato dal new york times tra le cose da vedere quando si va intorno ai laghi pre alpini italiani prima di iniziare ti ricordo che il bazar atomico è prodotto dalla mia azienda di formazione finanziaria consapevole corsi per fare investimenti trading e non solo quello che si chiama money surfers dove dal 2010 insegno la felicità che fa i soldi ebbene sì invertendo i fattori il risultato cambia moltissimo ti ricordo anche che la regia di questo programma è curata da giovanni valentini videomaker raggiungibile anche per molti altri lavori su giovanni meno valentini puntocom che il nostro mago web in studio è mario piccaluga che fa anche il fotografo raggiungibile su nobile digitale puntocom che il mio styling è curato dalla factory tiny idols e che in studio beviamo solo caffè carnera adesso ragazzi mi raccomando prima di rilassarvi vedere lo show e ascoltarlo se siete su spotify cliccate su segui iscrivetevi al canale youtube o cliccate su segui su spotify per voi è un click per noi cambia radicalmente e darà più chance alla sopravvivenza di questo podcast adesso basta però buono show posso chiamarti pierpaolo save the wall save wall allora ti devo chiamare mi devi chiamare come ti viene più comodo è la regola uno che si chiama pierpaolo con tutti che gli chiedono mi devo chiamare pierpaolo pierpaolo come ti viene poi la cosa bella che i familiari mi chiamano paolo gli amici chiamano pier la mia ex mi chiamava pierpaolo io mi metto in mezzo chiamo così lo spazio fra pier e paolo pierpa è proprio carino mi piace visto che abbiamo avuto nella puntata precedente un milanese doc come il dottor parodi in realtà non è un milanese doc però si è ambientato bene diciamo che è più milanese dei milanese attualmente abbiamo avuto questa puntata se le vista sta spaccando tantissimo e sta dividendo molti allora pierpa io e giovanni soprattutto ci siamo dati questa disciplina poi di solito le bruciamo subito le discipline perché siamo nati così un po anarchici ci piace iniziare la puntata chiedendo alle persone che vengono come è stato possibile il passaggio nella sua vita da manager di importante perché appena centrato in questo studio ci raccontavi proprio della tua crescita professionale anche di salario che ha avuto nella tua prima vita e come fatto a diventare uno degli artisti di street art e pop a neo pop art italiana più rinomati che ci sono si è stato anche citato dal new york times quando parlavano del lago di como come una delle cose da vedere assolutamente quando si viene a como ma però c'era una vita precedente come è andato il passaggio quanto è stato doloroso come 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 sei riuscito a farlo questo passaggio il passaggio cosa facevi prima perché io non lo so allora io ero sono arrivato a essere vice direttore generale di confartigianato como è una carica politica mentre dice direttore generale della società di servizi è una carica un po più tecnica dicevo sono arrivato lì da dall'ultimo livello perché quando mi hanno fatto il colloquio per assumermi mi hanno chiesto quanto volessi guadagnare dato datemi il minimo se sono bravo crescerò eri laureato non ero non sono laureato non sono laureato un po un rimpianto ma non avevo le idee chiare non sono laureato e quando mi è stato chiesto se lo fossi ho visto che non era un problema perché ciò che dovevo andare a fare non richiedeva una laurea ma richiedeva altre caratteristiche quindi capacità organizzative gestione di uomini e mezzi economici nell'arco di mi hanno assunto nell'arco di sei mesi sono cresciuto sono ho avuto anche del mobbing posso dirlo c'era il mio mio collega più anziano che non veramente una situazione complessa io mi sono rivolto al suo superiore il quale mi ha detto sei l'unico che riesce a sopportarlo e va bene vai avanti vado avanti e ci mettono allo stesso livello poi divento io il suo capo e poi da lì vengo notato per dei progetti e divento appunto vice segretario generale va bene in quanti cinque anni cinque anni con un progetto di riorganizzazione su un piano decennale tutta una mia visione basata sulla raccolta di numeri tutti i numeri analizzati sia sull'associazione incredibile cioè l'opposto di quello che fai adesso un lavoro veramente sul concreto sulla ma in realtà ti devo dire che c'è un modo di lavorare che è applicabile a tutti i lavori dal mio punto di vista cioè se c'è una passione che ti muove riesci a trovare del bello in ogni mestiere poi devi essere anche umile nell'affrontarlo cioè quando approccia qualcosa di nuovo qualunque cosa sia vedi di non presentarti come il capo ma anche se sei tu e i numeri e allora ho cercato di analizzarli mi sono reso conto che c'era margine di recupero rispetto ad un certo andamento e bisognava comprendere cosa facevano le associazioni di categoria allora ho studiato cosa facevano e ho scritto un libro sui corpi intermedi che nel titolo dice artigiani e confartigianato l'unico matrimonio di interessi fatti per un fatto per amore cioè chi non sa che cos'è un organismo di rappresentanza gli imprenditori si rivolgono all'associazione dico questo perché ha un senso interessante si rivolgono all'associazione artigiani da estetiste parrucchieri piuttosto che tessitori stampatori chiedono tutela rappresentanza a livello nazionale quindi chi va a portare avanti le istanze delle imprese con il governo le associazioni di categoria un tipo di mega sindacati di è un sindacato dell'imprenditore artigiano per dimensione poi c'è confindustria un'industria che prende le industrie poi c'era l'api delle piccole industrie che prendeva quelle un po più strutturate insomma ognuno aveva una sua rappresentanza beh confindustria la più grossa le quattro sigle invece che rappresentano il commercio artigianato sono state aggregate da questo professore feltrin che ha scritto la prefazione del mio libro in poche parole spiegare gli spaccati già nella prima vita ma come si fa cioè hai fatto carriera in pochi mesi hai scritto un libro e ripete la strada era già spianata perché non sei rimasto lì e ti sei messo a dipingere i muri le cose cos'è che no in realtà ho sempre dipinto sempre avuto questa passione durante le riunioni più noiose prendevo appunti disegnando e qualcuno li ha mantenuti quei disegni adesso varranno tantissimi io avevo un assistente alla quale dicevo quando vedi che ci sono disegni raccoglili per anno e io di tutti gli anni scherzavo ma perché già sapevi e già sapevi tutto scritto sei un demonio te perché sono un feticista dell'oggetto forse non lo so mi piace tenere la memoria delle cose allora sai cosa faccio ti regalo un libro scritto da me perché anche io ho scritto un libro si chiama live design wow te lo regalo sei un feticista me lo devi dedicare a voglia ok ma che ci conto con un disegno però faccio carissimo però ci provo e vedi cosa ci rende davvero felici e in poche parole io non ero più felice era una gabbia dorata avevo raggiunto il vertice però dicevo tutto quello che aveva fatto prima che ho fatto prima mi ha servito non sputo nel piatto dove ho mangiato sono stato bene è stato benissimo solo che da un certo punto in avanti non c'era più quell'incentivo a crescere in più cosa succede che c'è tutto l'aspetto economico che mi ha fatto fare una grande riflessione cioè io lavoravo tantissimo alle 6 ero già lì ma anche quando ero un impiegato non timbravo il cartellino mi faceva ridere l'idea di timbrare il cartellino timbri un cartellino quando sei lì due ore prima e timbri il cartellino quando hai due ore dopo non ha senso cioè lì erano tutti ai 29 pronti col cartellino in mano i cartellinari e io invece non la pensavo così certo è che ho iniziato con 900 euro con mia moglie mi dicevo certo che se avessimo 1500 ottenevo 1500 la felicità durava il tempo di avere un nuovo bisogno certo che se avessimo 2000 davo a chiedere ottenevo 2000 e anche lì l'entusiasmo no ma che allora questi picchi che poi scemavano nel nulla allora ne ho parlato con il mio direttore generale segretario direttore sono due figure diverse con il direttore generale il quale mi diceva perché alla fine vuoi sempre qualcosa di più mi disse un'affermazione che mi fece davvero riflettere dicono che la carne umana sia buonissima quando tu cominci a avere le scarpe che hanno un nome olga berluti ad esempio quando comincia a dire orca però se la giacca non ha il bottoncino sartoriale orca però se ma scusa quando aveva 900 euro le esigenze erano altre adesso ne ho chiesti un po di più per pagare le bollette con maggiore scioltezza per arrivare a fine mese meno impiccato invece adesso sono qui a guardare se la scarpa è una campanile una rossetti una cercio qualcos'altro questo da una parte dall'altra passavo le mie stati al telefono con i giornalisti perché ti chiamano per riempire le pagine estive con dati numeri come va come non va quindi chiamare i colleghi spingerli a lavorare sempre di più sull'entusiasmo io non ho mai obbligato direttamente a lavorare di più ma lo facevo col mio entusiasmo io ero davanti a tutti aprivo le strade ottenevo i risultati dico ragazzi andiamo tutti ce la facciamo e tutti a lavorare di più mi sono reso conto che stavo sbagliando tutto vedevo crescere le figlie di un centimetro alla volta sulla porta di casa c'è segnato e tu vedi un centimetro un centimetro ma in realtà mia figlia la piccolina diceva papà ma d'estate mentre loro andano a fare il bagno e io lì al telefono papà ma tu giochi solo con l'ipad ecco cane hai ragione cioè io non sto giocando ma tu non lo puoi capire io sto lavorando e tu reclami il tu la tua piccola quota di papà e allora è nato un primo disegno dove c'è una bambina che prega sull'ipad e dice please ho l'ipad give me back my dad nel frattempo avvengono altre cose ad esempio arriva Banksy nel 2004 2005 comincia a fare le prime incursioni nei musei e mette delle opere d'arte fasulle insieme a quelle autentiche nessuno se ne accorge e tu rimani affascinato perché io all'epoca guardavo su youtube e poi chiamavo tutti i colleghi gli facevo vedere le cose più virali e li entusiasmavo e Banksy entusiasmava eccola qua la bambina che prega sull'ipad ma ce n'è una anche con la scritta vero sì questa è una versione un po' un po' che poi vi spiegherò che si viene con laser no con l'ultravioletto e quindi niente già ma io già a casa mia avevo la possibilità perché i miei genitori me l'ha andata fin da subito di dipingere sui muri di dipingere eccola qua eh questo è l'inizio ragazzi cioè il cartone questa è stata la tua prima opera la mia prima ambizione di essere come dire Banksy disse fate come me semplicemente e io senza velleità artistiche presi ed andai in giro di notte tornavo alle 11 di sera fuori dai negozi del centro c'erano i cartoni dei negozi che avevano svuotato la merce li prendevo e disegnavo con la tecnica dello stencil i miei messaggi il primo messaggio che ho messo è stata la famiglia del mulino bianco non esiste con una bambina che dà fuoco al mulino bianco ed è un atto assolutamente liberatorio cioè io da sempre ho avuto delle passioni delle attitudini che sono l'etologia del comportamento umano ad esempio la psicologia cioè oggi mi fa ridere vedere parlare di comunicazione non verbale quando la PNL è andata a livelli stellari eccola qua la famiglia del mulino bianco non esiste quanto di più liberatorio c'è da una parte questa è messa a Como questa la prima si si a Como ma guarda secondo me poi per certi versi è anche facile beccare dove sono gli artisti ex anonimi perché prima di tutto vanno tutto intorno dove abitano quindi io c'era tutto intorno a casa mia che ci penso adesso mi viene da ridere perché andavo in giro di notte con un naso negli occhiali alla grucio Marx per non farmi riconoscere dalle telecamere perché essendo un personaggio pubblico cioè tu non eri ancora Mr. Save the Wall full time eri ancora il vice direttore della Confartigianato e di notte ti vestivi da grucio Marx e andavo in giro ma ti rendi conto che gente mi porto va bellissimo perché allora la cosa bella è proprio questa di giorno in giacca e cravata no tutto tirato tutto e di notte invece che ti devo dire che andare in giro di notte alle tre per Como ma io no fa paura fa paura perché poi ho fatto una cosa poi le scopri dopo io di street art non sapevo niente ma niente mi dava solo fastidio vedere i pasticci sui muri e allora ho fatto una cosa la faccio vedere vai sì oggi consiglio a chi ci sta ascoltando su Spotify li guardavo e anche su Apple Podcast ma cos'è Apple? allora Apple Music di venire su YouTube cosa ho fatto? ho fatto io prendevo i cartoni facevo le mie cose li attaccavo con quattro pezzi di nastro adesivo che poi ho brandizzato Save the Wall Save the Wall perché? perché io non andando in giro di notte mi sono reso conto che non avrei certo mai potuto imbrattare un muro perché è lontano anni luce dalla mia idea di convivenza civile con gli altri poi Como c'ha quelle mura che hanno quasi mille anni ah sono bellissimi mille anni sono decorate del 1200 sono ragazzi cioè come fai a dipingere un muro del 1200? allora me la son preso con chi aveva fatto delle scritte che non è che erano proprio street artist anzi probabilmente sono quella frangia di ignoranti che prendono una bomboletta fanno una roba sul muro e tutti dicono eccoli qua gli street artist gli street artist non sono quelli cioè ti amo Pinco Pallino abbasso l'Inter e viva il Milan non lo so non è street art e allora io ho scritto caro imbrattamuri se fosse arte la compreremmo invece dovremmo pagare per cancellarla e ho fatto un alza un pelo dove sei? lì un ho fatto una bomboletta spray dal quale esce un ricciolo di merda sai come per dire e ho coperto ma coperto si fa per dire perché se tu copri un altro street artist si dice crossare e lì sei un infame non si fa c'è un codice quindi assolutamente quando ne parleremo quando parleremo del perché io ho creato il manifesto della fine della street art perché questa regola io alla fine non l'ho infranta perché se attacchi un cartone con quattro pezzi di nastro adesivo non è permanente da qui nasce il nome da qui nasce save the world perché prima avevo un'altra tag che era unc uno nessuno e centomira cosa succede? che sono un po' le tue identità perché da manager a save the world probabilmente mi sa quante ne hai ancora nascoste e lì la questione è praticamente conseguenziale diventi un writer citato dall'associazione nazionale anti graffiti come un writer gentiluomo c'è un'associazione nazionale eh sì c'è un'associazione nazionale anti graffiti il sindacato dei beh ma c'è stato un momento storico che dove il problema a Como soprattutto c'era il nucleo anti writer cioè c'era polizia che andava in giro del resto da noi erano particolarmente attivi tanto vero quelli che sui treni sui treni sulle auto della polizia municipale tanti stranieri poi no? vengono in Italia ma sì 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 beh ma c'è tutta una rete c'è tutta una rete che io poi ho imparato a conoscere a rispettare dal quale poi ho preso giustamente le distanze nel senso che io non sono quella roba lì tant'è che poi sono evoluto ma e comunque io facevo come Banksy non c'era problema per me di fare come lui perché nessuno nel mondo dell'arte poteva dirmi alcunché perché non lo facevo né per guadagno né per niente ma solo per passare i miei messaggi in un luogo che fosse maggiormente visibile rispetto a dove ero io anche perché durante il giorno facevo cose dove dovevo tante volte chinarmi dire di sì anche se era no e insomma sapete come funziona in certi ambienti un po' politicizzati che è quella la cosa che mi stava un po' stretta e quindi cosa succede? io di notte ero libero libero cavolo ma liberissimo potevo fare quello che volevo e allora ho cominciato a far quello la bambina con l'iPad e poi e poi la gabbia dorata e poi io ero l'unico che aveva il Mac in ufficio avevo un ufficio con i quadri con i dipinti con le cose gli altri erano uffici sterili con la fotografia della famiglia un grigiore mentre c'era una voglia di fare però mi sono reso conto che andavamo a velocità diverse e il primo con cui non andavo d'accordo era il mio direttore generale tanto vero è che a un certo punto ho fatto un uccellino di Twitter l'ho chiamato ricambio generazionale l'uccellino di Twitter che dialoga con l'uccellino normale solo che uno parla con l'hashtag perché all'epoca era la novità e l'uccellino normale non capiva che è bellissimo tra l'altro ieri proprio quando guardavo le tue opere stavo pensando chissà cosa pensa Pierpaolo della nuova proprietà di Twitter di Elon Musk come ci sarebbe da dire sì ma ho fatto un quadro anche su Elon Musk dove ho trovato un gioco di parole bellissimo tweet not tweet cioè non sono mica scemo una roba di questo tipo dove lui dice prendo perché mi rendo conto che una comunicazione di un certo tipo la si fa qua cioè se voi guardate la politica adesso con la nuova presidente del consiglio si parla di tutto anche sugli altri social ma c'era una certa comunicazione da establishment che era più su Twitter quindi il fatto che lui l'abbia preso e che il primo atto sia ridare a Trump la possibilità di scrivere ritorna alla libertà ecco quella libertà che si auspica un po' tutti e quindi dicevo glielo dò a lui e gli dico questi siamo io e te ah veramente al tuo capo gli hai dato quest'opera wow e lui l'ha presa ha messo da parte eh ma era uno comunque in gamba devo riconoscere che è stato maestro si impara di più probabilmente se si è capaci dalle persone con le quali non si va d'accordo se hanno la capacità o lo spessore e se tu hai ti dicevo come prima l'umiltà perché se sei convinto di avere ragione sempre solo tu non imparerai mai invece io da lui ho imparato anche se non andavo d'accordo e quindi gli ho regalato come col mio presidente avevo fatto lui nei panni di Napoleone proprio con la mano così con su scritto confartigianato se mua l'avevo dato va bene e cosa succede che un giorno non stavi un po' sul cazzo da questi qua che si si infatti mi sono andato si si non prendi un po' cioè si no perché da un certo punto in avanti sto Pierpaolo però lì non ti potevano licenziare perché è un posto pubblico o si no beh ma ci siamo confrontati e gli ho detto se il futuro siete voi non c'è futuro per me cioè molto semplicemente poi da lì a dire me ne vado e parliamo la domanda perché quello è un po' il momento cruciale tante persone hanno magari vivono le stesse cose che stai raccontando tu tutti i giorni ma pochissimi fanno il salto poi dall'altra parte quello è un po' il tema come si fa a farlo questo salto cercando di farsi male il meno possibile o addirittura magari scoprendo che saltando sappiamo volare beh questo è proprio un concetto americanissimo mi ricordo che quando ho avuto la pubblicità del new york times che dice appunto una delle 12 cose da vedere gli americani conoscendo la mia storia mi raccontavano tutti questo aneddoto si butta perché si è disperati e invece si inizia a volare ma io vorrei dire che sono stato nelle interviste che mi è capitato di lasciare uno dei punti perché infatti quando ho dichiarato sono io mister save the wall mi ricordo che millionaire business people avevano scritto il writer è un manager ho lasciato tutto per seguire il mio talento quindi la prima cosa che dico che coraggio e invece dando un peso alle parole io devo dire che incoscienza io sono stato un incosciente un incosciente è stata quella cosa di quel momento di dire ma sapete cosa c'è ma io me ne vado ma io me ne vado basta me ne vado e me ne sono andato è stato un istinto sì sì ci siamo incontrati abbiamo parlato ma in quel momento come ti sei visualizzato cioè che progetti avevi che progetti avevi no ma dico vabbè allora ho fatto un anno e mezzo in cui sono stato nella gabbia dorata per cui arrivavo ma alla fine non riuscivo a fare quasi niente e quindi in ufficio sì sì in ufficio ah ti hanno mobizzato quello che diceva all'inizio non voglio dire no mobizzato all'inizio inizio inizio proprio quando ero appena entrato no non voglio dire mobizzato avevamo punti di vista diversi e io avevo un ruolo dove se sei d'accordo col presidente il direttore generale il segretario generale bene se non sei d'accordo cosa fai gestisci altre cose per cui diciamo un po' l'infelicità e come mi sono visualizzato infelice per me la felicità è essere sereni e mi mancava la serenità quando non hai la serenità è difficile poi trovare dei momenti di felicità se non sei sereno io ambisco alla serenità non chissà che che per me poi per ognuno è qualcosa di diverso e non hai dovuto affrontare la paura dell'ignoto subito dopo subito dopo un stipendio importante certo subito dopo una famiglia già avevi come no oltretutto a carico perché mia moglie non sta tanto bene di salute e quindi tutta la famiglia a carico mio e quando sono uscito è stato il panico cioè il momento lì è adrenalinico me ne vado cioè proprio da sogno no? libertà no? ti può rinnovare ma nemmeno ma tu non ho guardato quello che succedeva dopo domani allora nell'anno e mezzo io ho cominciato a costruire qualcosa su Save the Wall pur essendo in anonimato avevo preso ho costruito il sito e poi ho cominciato a guardare l'e-commerce e poi ho cominciato a guardare il SEO questo quello e quell'altro come strutturare l'azienda Save the Wall anche perché io sono sempre stato portato a dimostrare nei fatti avevo creato un nucleo che si occupava di marketing e avevo l'ambizione si chiamava tipo IT una roba del genere che aveva l'ambizione di portare le aziende in difficoltà a essere nuovamente competitive e leader di mercato allora ho preso una prima azienda ma questo è il tuo lavoro successivo? no no quello precedente sempre l'inconfartigianato avevo preso un'azienda sono andato a fare una camicia su misura e questo mi dice noi producevamo 50.000 camicie siamo scesi a 12.000 ho dovuto lasciare a casa le ricamatrici ho dovuto qui la suggerita ma sei pazzo è un'azienda della madonna ma sono un conto terzista lavoro per barba lavoro anche per quello inglese Brooks Brothers eccetera le facciamo noi però adesso si è ridotto vendile tu e lì mi è nata l'idea allora ho detto io ti dimostro tu dammi carta bianca e l'ho portato a rendersi indipendente a vendere un suo prodotto e addirittura a pensare ipotizzare di fare le camicie su misura a distanza in America in America sulla base dei tuoi parametri biometrici ti faccio la camicia e te la spedisco questo era per dimostrare che ero in grado di farlo e alla stessa stregua mi sono detto quello che io insegno alle imprese ho da mettere in pratica per me e allora ho voluto cimentarmi nella creazione del brand save the world e il brand save the world aveva dei contenuti che erano questi messaggi dove c'è la famiglia al centro della mia ricerca come nucleo fondante della società cioè un domani i miei figli saranno potenzialmente i futuri amministratori della cosa pubblica i futuri amministratori delegati di un'azienda o anche semplicemente l'uscere o allo sportello della posta che fa girare le palle perché magari dalla famiglia arriva in un certo modo invece puoi fare allora la famiglia è il nucleo fondante allora mi sono detto i contenuti ce li ho devo far crescere questa cosa e quindi la stavo portando avanti ma non c'era una belleità di business anche se in realtà avevamo un negozio di proprietà a Como sempre lì in viaggio ovvio sotto casa io ho cominciato a mettere dentro dei miei lavori con il numero di telefono e la gente ha cominciato a chiamare avvocati notai collezionisti cioè gente interessante e lì il pudore di stabilire un prezzo del mio lavoro cioè per me chiedere 100 euro mi sembrava tantissimo poi è arrivato Diodato poi ne parliamo dopo vabbè cosa succede che queste cose hanno cominciato a piacere ad andare però da lì non c'era ancora è stato poi quando ho lasciato tutto non so se a livello inconscio probabilmente quella era la spinta vera però da una parte non avevo costi di affitto del negozio perché era di proprietà e poi la materia prima è un cartone questo è un cartone per cui io l'ho preso in strada e all'epoca io li facevo così su cartone e allora mi sono andato da fare adesso volevo farti vedere farvi vedere questo questo lo faccio perché grazie per aver portato direttamente qui al bazar gli strumenti del tuo mestiere molto motivo di orgoglio non parlare ancora che mi sa anche se stavano fuori bombolette adesso ci vai tranquillo questo tavolo qua potresti oscurare la videocamera sarebbe un atto creativo 7000 euro questo tavolo però non so vedete se vuoi sporcarlo lo fai allora in realtà l'unica cosa la cosa più importante che io avevo vedi che io sento se non mi sento no la cosa bella è che tu hai le mani belle sporche che stai lavorando all'opera che stai facendo e ti ringraziamo in diretta qui al bazar ma anche sugli occhiali ti sei accorto solo guardandoti al monitor che hai una macchia di azzurro quindi insomma sei un tutt'uno allora questa era prima di tutto come vedete questa è tranquillamente una delle opere che vendevo nel mio spazio e questa tra l'altro è l'opera più fotografata è caduta vai vai da lì non può più cadere questa è la cosa più fotografata che c'era nel mio studio e cioè seduto ho avuto tante idee ma è alzando il culo che le ho realizzate beh amici miei questa te la posso copiare? ma io questa te la posso lasciare? no veramente allora io quello che volevo dire e quindi cosa facevo? prendevo quattro pezzi di nastro adesivo così li mettevo qua di fianco e lo attaccavo sul muro così tac save the wall alzala un po' dove sei? lì sempre lì ok sempre lì ok cioè questo per me è se non hai questo tipo di ingrediente ah certo aspetta che mi sono incastrato la ruota sotto ah senti che odore di pop adesso ci sbagliamo anche un po' ok mi piace mi piace quindi se non hai questa skill tu puoi avere tutte le la skill alzare il culo esatto se non hai questa non vai da nessuna parte sì perché un po' dai la retorica dell'artista che in realtà deve vivere bohemian e ne parliamo vivere di esperienze non si deve sporcare col mercato oppure l'ispirazione che è come un fulmine che a un certo punto ti coglie e te devi stare solo lì passivo ad aspettarlo esatto e poi comunque esatto cioè non autopromuoversi volgare dai cioè non è molto d'artic cosa ne pensi? no io penso che nel momento in cui fai la scelta di essere un artista professionista e apri una partita IVA e sei regolarmente iscritto all'albo delle imprese io sono artigiano per lo stato quindi sei iscritto anche alla confa artigianato no però quando mi sono andato gli ho detto che mi sarei iscritto e per poi diventare presidente non hai detto che non lo faccia esatto la terza fase terzo tempo ma guarda innanzitutto ho scoperto una cosa ed è un valore aggiunto e quando guardo le mie figlie 15 e 17 anni so per loro 50 50? sì wow quando guardo le mie figlie so che non avranno il lavoro per tutta la vita mi ricordo che il mio suocero mi detestava perché non capiva che lavoro facessi e portavo a casa un sacco di soldi lui dice ma sai lavorare in banca è un mestiere il muratore è un mestiere ma tu cosa fai? e quindi gli dico si cambia si cambierà in continuazione non esiste il lavoro per sempre loro studiano per lavori che non ci saranno più arriveranno lavori per i quali non avranno le competenze così come chi studia economia e commercio c'era un libro bellissimo che diceva studi tanto per avere delle competenze che non saprai usare nei momenti in cui c'è veramente bisogno perché quella cosa diceva solo fuori classe la differenza che c'è tra l'essere colti e acculturati io ho cercato di crescere le mie figlie con quest'idea l'acculturata è quello che continua a buttare dentro nozioni che ti sbatte fuori come le ha prese le butta fuori la persona colta è quello che le elabora le mette tutte insieme le mischia le usa in base al contesto in base a come le cose sono cambiate ed è capace di utilizzare il proprio sapere rimescolando in un cocktail che sa fare solo lui che è quello giusto per quel momento per quello che io dico non mi scandalizza l'idea ma perché se io devo pagare delle tasse e devo viverci del mio guadagno non mi può scandalizzare che ci sia una crescita nel momento in cui sono uno che deve fare una cosa ti faccio pagare il costo della materia prima ma nel momento in cui sono un professionista c'è io adesso ho appena installato l'aspiratore professionale come quello di una carrozzeria sono 20.000 euro di aspiratore ma dove l'hai installato? nel mio laboratorio per questi gas che fai? è certo hai detto così sono altamente tossici no scherzo no allora in effetti sopra il mio letto servirebbe lo stesso aspiratore però non per arte comunque sono più di dieci anni che respiro questa cosa sai che allora non c'è truccazzo dai bazar posso un saluto a quelli che sotto dicono che interrompo c'è una tizia che vende i profumi a San Marino Enrico sempre quando andiamo Enrico è il mio socio quando andiamo a San Marino lui compra i profumi lì questa ha perso l'ho fatto perché lavorando tutta la vita in un negozio di profumi e con quelli e cose non voglio darti però ha perso l'ho fatto quindi effettivamente è importante questa cosa le complicanze fossero solo l'ho fatto ah certo no in quel caso ogni tanto non lo sento quasi più neanch'io però quindi non mi scandalizza qual è il covid comunque adesso ma guarda no ho preso sai che quando ho preso il covid mi è andato sta da meglio no mi è andato via ti è tornato ti è tornato mi è andato via sia l'ho fatto che l'ho adorato è stata la cosa più triste in assoluto perché io amo tantissimo cucinare mi piace cucinare mi piace sono innamorato del profumo del basilico dell'origano cioè l'idea di non sentirli più di non poter più gustare un gin tonic cioè è veramente follia ma ok quindi quindi ripercorriamo questa prima parte mi piace farla un po' autobiografica perché la tua storia può essere di ispirazione tante persone che magari non trovano il coraggio di fare il passo di alzare il culo di alzare il culo per realizzare le proprie idee il tema era quindi sicuramente c'è stato una componente di follia una componente di quasi di essere posseduto da qualcosa di più grosso che adesso rivedi come follia tra l'altro è anche interessante come magari il tempo ci le faccia sembrare folle ma mentre invece la compivamo quella scelta ci sembrava la cosa più lucida a chi ci fosse perché anche a me è successo un po' così cioè io quando mi riguardo indietro e dico cazzo ho accettato un anno e mezzo di stipendio dalla tre ero manager avevo già cinque dipendenti sotto minchia avevo 28 anni cazzo ma ti rendi conto ho paura adesso cioè sai quando sogni indietro gli esami dell'università o le interrogazioni ancora adesso mi sogno perché sono lì aiuto e invece adesso mi fa più paura quando l'ho lasciata è per me stata proprio una roba si poi mi ha aiutato anche la mia ex a fare questa scelta eccetera però nel tuo caso quanto tempo ci hai messo poi a recuperare proprio un tenore di vita che è assimilabile a quello che avevi prima se mai l'hai recuperato cioè col business ma allora voglio essere col business arte voglio essere utile e ho visto che tanti che sono passati di qua hanno avuto la forza e il coraggio di dire che si cade che si fallisce che ci si sente delle merde devo dire che i primi mesi è stata durissima durissima perché ormai avevo fatto la scelta perché come una pozzanghera perché da una parte avevo il mio problema di gestione familiare dall'altra che quando avevi raggiunto una posizione a un certo livello e tutti si facevano film cioè c'era anche un po' la berlina no e mi sono detto va bene io apro faccio questo allora ho dichiarato sono io save the wall mi hanno chiamato il quotidiano locale ha fatto un articolo e ho aperto e ha cominciato ad andare bene tant'è che dopo aver aperto il primo negozio mi ha aperto un secondo dove ho potuto differenziare per prezzi quindi da una matita di 2 euro a un poster o a un lavoro piccolo da 500 davanti a San Pietro in Atrio che tu sai a Como e dove si fanno le mostre e dove io nel 2015 in agosto ho fatto la mia mostra ho aperto lì perché ho visto che ho fatto 15.000 visitatori in 20 giorni quando la grande mostra a Villa Olmo è vero che si pagava il biglietto e da me no mi ha fatti 14.000 in 6 mesi però l'avevo strutturata con tutta una mia visione è quella visione che fa la differenza e ti porta cioè la visione di non guardare al ritorno economico ma di guardare a fare le cose fatte bene di seguire quella tua idea di come si devono fare le cose e quindi anche l'apertura del mio primo spazio è stato fatto con un lavoro massacrante di giorno dedicarsi ai clienti alla vendita e che di notte produrre e quando entrava ad esempio mi ricordo è entrata sta turista che tu la vedi subito che non comprerà nulla perché è lì con lo zainetto il jeans la roba forse una cartolina ma quando è arrivata lei io la cartolina ancora non ce l'avevo però tu sai che ti devi dedicare perché non fai distinzione tra chi può comprare e chi no perché non stai vendendo un oggetto senza cuore l'arte ha dentro tutta la tua vita infatti ne abbiamo viste tre e tre che parlano della mia esperienza personale che però è un qualcosa nella quale tutti si identificano questa ragazza ha voluto parlare con me 45 minuti io l'ho raccontato tutto dopo un'ora se n'è andata come avevo previsto senza comprare nulla peccato che quella sera mi manda una mail mi dice sono Ingrid William del New York Times oh questa cosa mi ha svoltato cioè tutta l'America è arrivata e oltre all'America che veniva in Italia e passava di lì veniva a vedermi e questa è andata avanti per anni con in mano il foglio e tutti mi dicevano dov'è il marketplace che è la cosa successiva arrivavano dal faro di San Maurizio venivano a vedere me e andavano a far colazione dal bolla 12 cose e io una di quelle ho conosciuto gente milionari attori da Villa d'Este mi telefonavano il nostro cliente vuol sapere se c'è perché vuol venire lì e arrivavano gli attori Michirur che passava Michiruni quello che ha fatto nove settimane e mezza incredibile piuttosto che imprenditori da mille e una notte che abitavano nei campi da golf un altro che arrivava da Cincinnati insomma ho cominciato a avere il ritorno la mia prima curatrice Chiara Canali mi diceva ma perché sei l'unico artista che non cerca un gallerista perché tutti i miei artisti che seguo mi chiedono il gallerista era una cosa che nei miei piani non c'era nel senso che io facevo il mio mestiere andava bene così ero arrivato eri tu gallerista di te stesso io gallerista di me stesso interessante sta cosa perché parlavi direttamente tu con i clienti esatto parlavo io che nel tuo caso è stata una fortuna forse perché hai avuto questo incontro con questa giornalista che però non può essere sostenibile a lungo termine forse beh soprattutto non può essere messo a processo cioè non puoi mettere a processo che devi incontrare una giornalista cioè puoi sperare nel colpo di fortuna ecco poi sono di quelli che ritiene che la fortuna la si aiuta grandemente alzando il culo se tu alzi il culo la fortuna la aiuti se invece sta a casa sul dirai alzi il culo ma poi è un misto tra culo e cuore perché quello che hai detto poco fa è proprio una chiave di volta di tutto è un po' un leitmotiv come direbbero il tuo cuore era aperto e hai attirato quella situazione in certi ambiti spirituali in certi ambiti spirituali si parlerebbe di legge dell'attrazione di cose simili cioè di comunque siate la si è chiamata quella situazione se non eri così appassionato sarebbe arrivata ma sarebbe passata la legge di attrazione è diversa perché quella ti dice visualizza il giornalista del New York Times che arriva no io parlo della mia quella un attimino più sensata non quella quella di Valentini esatto no lui cazzo ha fatto proprio una roba di gratuità cioè un po' una parola chiave che sta tornando anche con i precedenti ospiti questa cosa di viaggiare poi cosa hai detto parla di me quest'opera quindi sono io rispetto per la propria la propria opera rispetto tu ti donavi gratuitamente anche senza scopo meramente di lucro perché avevi rispetto per quello che facevi perché sapevi che parlava di te che quindi per te era importante è quello un po' il processo se tu pensi un giorno ancora andavo in confrattigianato e andavo nel tragitto ascoltavo Radio 24 a un certo punto 2013 sento allora Corriere della Sera l'Italia fanino di coda il Paese l'Italia in default c'era Frankfurt Allgemeine l'Italia fa una merda cioè tu ti ho detto no ragazzi ma cos'è sta situazione io ho avuto una pelle d'oca così cosa sta succedendo noi abbiamo fatto cose meravigliose e allora visualizzo un'immagine visualizzo la pietà di Michelangelo che tiene tra le braccia il tricolore io lavorando come si chiama quest'opera per farlo vedere povera patria povera patria mi sembra o comunque se scrivi pietà save the wall dovrebbe venire fuori scrivo chiamo l'assistente e le dico guarda non vengo in ufficio oggi mi sono girato sui tacchi sono andato a Piazza Gavur dove c'è l'edicola internazionale ho preso tutti i quotidiani internazionali e quella notte ho realizzato questa pietà che tiene il tricolore ma io vorrei farvi riflettere su una cosa se dovessi descrivere descrivere un dolore un dolore un dolore acuto come può essere quello di una mamma che ha tra le braccia il figlio morto io mi dico ma io posso avere il vocabolario più ampio la proprietà di linguaggio più incredibile ma non posso descriverlo in modo da fartelo capire solo questa immagine può farti capire quello che voglio intendere però in tutti i miei messaggi tutti dal primo all'ultimo c'è un risvolto positivo ovviamente io immagino che l'Italia risorga tanto vero è che questo per dire se questa è l'urgenza cioè quell'urgenza è quella che ti fa fare la scelta folle quella quella follia di Steve Jobs che tutti hanno abusato e togliendogli di significato come quando dicevamo alle imprese dovete innovare all'inizio avevi una chance di farla innovare poi tutti ti dicevano che dovevano innovare e nessuno capiva più cosa fosse l'innovazione e allora dico quando senti quest'urgenza secondo me lì c'è il vero valore quell'urgenza che ti fa fare la scelta folle sai che ne parlavamo si connettono molto le puntate con l'ospite che ti ha preceduto Parodi e io gli ho detto nei tuoi video lui fa questi video sui social a me pare proprio che si veda che tu quella cosa lì la devi dire perché se no stai male cioè è autentica è proprio spontanea viene fuori come ti è venuta fuori credo quest'opera questa pietà cioè non potevi tenerla dentro era sovradimensionata rispetto a te quando l'opera è più grossa di te deve uscire deve prendere vita tra l'altro quest'opera qua a proposito del denaro quando l'ho fatta la prima mi ricordo che io lavoravo nel solaio come tutte le aziende di successo iniziano nel solaio in garage io in solaio volevo farlo questa battuta perché l'hanno fatta a me e io sono rivasto lì ho detto Marco Gita ma anch'io ho iniziato nel solaio vabbè e mi ricordo che il mio vicino di casa un grande collezionista ma io non lo sapevo è entrato in solaio mentre io stavo facendola l'ha vista e ha detto meravigliosa la voglio e dico guarda io vorrei mandarla a Renzo Rosso perché penso che sia tra gli imprenditori più visionari quello che può apprezzarla può magari dargli visibilità no no la voglio io la voglio io te la pago dico ma no Walter cosa vuoi pagarla figurati ero ancora in quella fase lì dove avevo il mio lavoro dovevo andare ad attaccarla in giro ma un metro e venticinque per un metro e venticinque gross no 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 io te la pago scende le scale lui è nel condominio di fronte prende tutti i contanti che ha a casa arriva viene da me e me li mette franchi dollari euro me li metti lì sul tavolo da lavoro in mezzo alle bombolette una cosa che bellissima io come vedevo sta scena mi dicevo ma secondo me dovresti diventare famoso io devo mettere una biografia perché è troppo bella sta cosa qua bellissima cioè lui grande collezionista ma io non lo sapevo che poi tra l'altro comperà altre altre opere a partire da quella in effetti è molto d'impatto spacca veramente effettivamente oh se l'è portata via io ho lì un bel gruzzoletto cioè poi certe cose magari lavorano a livello inconscio su quella spinta gentile a dire ma andate tutti affanculo ecco il giorno dopo poi ti ripeto il dramma che però se lavori in un certo modo se ti piace lavorare qualunque lavoro ti dà l'opportunità io la penso così poi cerco sempre di non parlare per frasi fatte sui libri no però se le vivi poi sulla tua pelle ed è andata veramente così lo devi dire anche se bisogna essere bisogna avvertire che non è che va sempre così perché sennò saremmo pieni cioè non è che sono tutti Leonardo del Vecchio cioè dei Martinit in realtà tre ce l'han fatta che è Bianchi delle biciclette Rizzoli e lui però sono tre su quanti ne sono passati di lì ecco cioè diciamo anche questo ci sono dei fattori che vanno tenuti in considerazione certo è che il passaggio come diceva Verga no la cozza è ancorata allo scoglio se lascia rischia di essere in balia dei flutti è un rischio che bisogna sapere che c'è e può finire anche male e molto male penso che in questo però sia utilissimo il lavoro che fate voi ma proprio di recente guarda io poi sono fatalista credo nella psicocibernetica ma mi piacerebbe approfondire la parte più spirituale perché ho sentito che è venuta fuori più volte che fate meditazione mi piacerebbe riuscire perché tu ascolti il bazar atomico beh l'ho ascoltato la prima volta con Deodato perché mi è venuto fuori me lo sono goduto e poi l'ho abbandonato poi c'è stato questo incontro con i money surfer e Silvia ma avevo questo entusiasmo nel coinvolgermi in questa cosa che io difficilmente riscontro privo di un interesse economico io ho ridotto ai minimi termini le mie frequentazioni perché Silvia la salutiamo è diciamo una nostra collaboratrice aumento per Silvia mi ha trasmesso quell'entusiasmo che sono andato a riguardarmi il bazar atomico e poi ho scoperto che c'è il libro volevo arrivare avendo letto il libro cioè ripeto c'è un modo di fare le cose che a un certo punto secondo me è la lunga bisogna solo avere pazienza resilienza anche noi ti ringraziamo perché un po' delle cose che ho scritto che dire che insegno mi sembra troppo ma che stimolo diciamo nei miei corsi si parla tantissimo con quello che dici te e oramai credo che stiamo pucca gli americani come dicono cracking the code cioè stiamo trovando puntata dopo puntata la quadra la quadra cioè ci sono dei per quanto sia insondabile perché ognuno ha la sua storia ognuno ha il suo ritmo ognuno ha il suo atteggiamento però ci sono dei pattern che si verificano cioè dei pattern delle degli stati emotivi che si verificano delle tendenze cioè appunto quello che abbiamo detto prima rispetto per quello che si fa l'amore per quello che si fa un minimo pizzico di di follia che però sembra follia apposta secondo me perché invece come diceva Morgan la crisi è un eccesso di lucidità secondo me eri più lucido quando ti sei licenziato di adesso quasi no è interessante questo ti ringrazio ti ringrazio il buzzer atomico inconsciamente guarda l'abbiamo parlato l'ultima volta a pranzo perché noi siamo sempre lì ogni volta potrebbe essere l'ultima puntata perché comunque è molto dispendioso non abbiamo tante views cioè ci sono podcast ma chi se ne frega delle cioè scusami allora la cosa bella è che tu hai messo questa cosa è lì e perché vi ho sentito chiaro che per uno che si accosta la prima volta e che è ormai standardizzato cosa fa scorre vede dove ci sono il maggior numero di visualizzazioni e si mette a guardare dice questo sarà il più figo ma poi alla fine quando è figo è esaurito quelli con più visualizzazioni siccome è figo il format e mi è piaciuto il modo con cui avete detto che scegliete le persone onestà intellettuale che ripaga cioè prendiamo quelli che non ci chiedono di essere pagati per venire qui che però non sono neanche gli sfigati che hanno qualcosa a dire che stanno in quella via di mezzo cioè tutte quelle figure che hanno un potenziale alla fine io mi sento lusingatissimo di essere stato invitato e di poter dare un mio contributo era automatico che venissi perché proprio si allora quando c'è stato questo evento di money surfers che diciamo ha questo a quest'area che si chiama investors club dove diciamo i nostri clienti più facoltosi investono in opere d'arte quindi nel tuo caso ma investono anche in altre cose fanno azienda insieme a noi eccetera in quella serata lì c'era Enrico c'era Silvia c'erano altri collaboratori e tutti e tre mi hanno scritto simultaneamente Davide devi invitare save the wall al bazar perché è veramente un bravo oratore la sua storia è molto interessante per questo podcast e quindi ho detto vabbè tre fanno una certezza e quindi l'abbiamo invitato subito e basta e quindi ne sto avendo la conferma diciamo quest'oggi ma guarda a proposito di questo che mi dicevi quindi io ho casualmente letto padre ricco padre povero sì ma dico proprio casualmente perché ho scoperto che ho ascoltato giusto per essere proprio in un bazar ho ascoltato 87.000 ore di Spotify musica più del 99% degli abbonati a Spotify e mia figlia diceva caspita papà quanti poi mi hanno detto tutti i generi cioè c'erano tutte le statistiche che hanno appena rilasciato quando ho visto quella cosa lì mi sono detto è vero che la musica per me è fondamentale ma random non ce n'è che c'è proprio in base all'umore scelgo poi c'è il suo algoritmo che fa il resto però io dico se queste 87.000 ore io le avesse dedicate ad una crescita personale tipo leggere che non riesco a leggere cavolo io al mattino mentre bevo il tè mi leggo i libri cartacei e la notte quando sono a letto mi leggo quelli su Kindle riesco o non riesco a leggere riesco però è troppo poco allora cosa ho fatto ho ripreso l'abbonamento a Audible e ho cominciato e cosa mi è venuto fuori padre ricco padre poverico perché quale strano algoritmo è riuscito a portarmi sta roba qua money surfer non lo so e poi l'uomo più ricco di Babilonia poi 1984 di Orwell poi la fattoria degli animali e poi di nuovo ancora la vita di Buffett questo è quello e quell'altro incredibile come poi tutto questo confluisca nel money surfer nel deo che si quota in borsa cioè i dollart si può dire che deo si quota non so si sa mi sembra che no perché me l'ha detto quando me l'ha detto sembrava che era ancora segreto al massimo al massimo ti tagliamo quando dico sta cosa vabbè no ma me l'ha detto parecchi mesi fa no vabbè ormai ormai è fatta vabbè e quindi diceva vabbè comunque psicocibernetica però vorrei capire no allora quello che dici tu è interessante io gli audiolibri non li riesco tanto voi avete mai provato gli audiolibri io mi sono abbonato due settimane fa ma non ancora mi ci metto addirittura ora c'è four books che o tipo altre cose simili che ti fanno un cioè che ti raccontano la parte rilevante di un libro come blinkist ce ne sono un po' che fanno l'altro lo sai che Montemagno per il black friday lo sta praticamente regalando four books si perché si vede che non è che funzionasse ma dai strano al solito le cose di Montemagno spaccano come competenze.it esatto come gli nft tutte cose di successo però sei un guru ma vaffan guru diciamo ce l'abbiamo con lui perché noi l'abbiamo invitato non è venuto se no era nostro amico anche questo io lo trovo è giusto è venuto allo studio è simpatico è molto preparato molto preparato di mess lui legge tutto il giorno lo invidio molto è molto bravo a disporre però loro l'hanno buttata lì l'abbiamo invitato più volte fa finta di niente pensa che gli abbiamo anche dato il libro vedi la differenza gli abbiamo dato il libro non l'ha voluto ha detto che non ha spazio se no la moglie lo manda via ma beh cioè nel senso va bene è molto sincera come cosa ma ecco parlavamo prima di leggere l'attrazione una cosa che se c'è una cosa che ho imparato nella mia vita è che non devi mai respingere un regalo cioè quando qualcosa ti fa un regalo è l'universo che ti vuole dare qualcosa poi magari ci dedichi cinque secondi poteva essere un altro libro non è che mi sono offeso figurati cioè però dici cinque secondi e poi magari faccio finta e me lo porto a casa e lo lascio in albergo ma dire no respingere un regalo è un'attività secondo me poco evolutiva allora a seconda del punto di vista come diceva De Sussure il punto di vista che fa le cose se gli vuoi bene devi dire pensate quanto è oltre questo se invece sei un po' un suo detrattore a me piace Montemagno in realtà io trovo che abbia giustamente il successo che ha perché i suoi video sono i migliori hanno cercato tutti di imitarlo ma nessuno riesce effettivamente quando fai video nelle interviste non mi piace sono più bravo io nettamente ma di gran lunga ma nei video montati quando parla dell'attualità della digitale è inavvicinabile cioè è proprio bravo proprio perché è così lui infatti quando loro l'hanno conosciuto perché io non c'ero è venuto qua a fare un'intervista con Rick Dufer che salutiamo gli abbiamo prestato lo studio e Montemagno è come lo vedi cioè parla di digitale cita i libri è una persona colta anche meglio forse a me lì mi ha fatto un'ottima impressione magari lo sottovalutavo invece adesso i video però sa fare solo quello perché l'altro giorno ha pubblicato un video blog in cui fa vedere Brighton io dopo 5 minuti l'ho spento era noiosissimo poi aveva una qualità video orrenda era veramente peggio che amatoriale ecco questo è interessante ci sono delle persone che sono bravissime a fare qualcosa ma non gli basta vogliono fare tutto questa è un po' una tendenza che vedo molto nella nei miei colleghi sei un imprenditore non basta devi essere imprenditore seriale sei un bravo scrittore di libri non basta devi diventare attore di teatro e fare le strade in teatro sei un bravo trader eccomi qua non basta devi fare anche il podcast ma cosa è diversificazione del rischio guarda io credo che questo sia troppo razionale nel mio caso ma nel caso anche di persone che il successo l'hanno già ottenuto perché Montemagno non è che ha bisogno di fare il video di Brighton nemmeno di fare chissà cosa c'è una persona che ha capito che è bravo in quello che fa è molto noto no credo che sia una debolezza nel non riuscire a dire di no e una paura della morte perché limitarsi a fare una cosa sola è già una morte e quindi in una società dove sembra che la morte non esista più non c'è più un tabù nella nostra società occidentale anche la morte delle possibili manifestazioni di me è poco facile da essere tollerata secondo me è un po' quello tu fai solo questo nella vita io direi che non vuoi anche tu fare un podcast no no ma guarda mi era venuta voglia di scrivere un libro diverso è facile avere successo se sai come farlo ma è arrivato Montemagno e alla fine no era più o meno guarda si vede che comunque ma le idee sono lì fiuti che è il momento per dire quel qualcosa e devi essere strutturato rapido e agire è così però devi anche conoscere giustamente i tuoi limiti cioè probabilmente se fossi stato inconfartigianato anziché scegliere la strada dell'arte avessi scelto quella del motivazionale che probabilmente mi sarebbe anche riuscita perché poi ti ci dedichi come dicevamo con quegli elementi ma i tuoi quadri e le tue opere effettivamente traboccano traboccano di come dire di indagine sulla persona sulla società e poi vabbè questa che è scritta è proprio un super slogan motivazionale ma questo è nell'aforismario degli aforismi inediti attribuito a me e ne sono molto orgoglioso insieme a Selfie Ergo Sum e ognuno le scelte che fa ecco io le scelte che fa me lo sono anche tatuato aspetta dove ce l'hai? sul braccio se sei d'accordo lo facciamo vedere nella seconda puntata perché adesso facciamo delle puntate più brevi così le persone si sentono meno in colpa quando interrompono la puntata arrivano fino in fondo e poi si beccano anche la seconda vuoi stare qui ancora perché io non ti ho fatto nemmeno una no una domanda delle 45 che avevo da farti io ho portato diverse cose da farvi vedere ok allora dai ne parliamo nel secondo round dai bella Pierpa grazie di esserci ciao questo è il Bazzare Atomico il Bazzare Atomico è il Bazzare Atomico è il Bazzare Atomico